Allora, cari telespettatori, un altro capitolo con lo SPCGL, dedicato non solo al mondo degli anziani, dei pensionati, come può venire di solito e come noi diamo per presupposto, perché poi io stavo parlando fuori onda con la mia ospite e anche in questa puntata emerge l'importanza che tutti quanti noi comprendiamo queste dinamiche di grande cambiamento, perché riguardano la sanità ma anche il sociale. Quindi a prescindere dall'età che ci può vedere coinvolti o meno, saranno cambiamenti importantissimi che sono avvenuti in virtù di un intervento di riforma che ha attuato la Regione del Veneto, di cui ci parlerà Ivana Fogo, grazie di essere ritornata qui con noi, del Dipartimento Welfare SPCGL del Veneto. Quindi partiamo da un atto normativo sostanzialmente, importante. Sì, allora noi abbiamo sempre come faro, abbiamo sempre il decreto ministeriale 77 che è quello che stabilisce i nuovi modelli e gli standard dell'assistenza territoriale, che è questa novità di luglio, è entrato in vigore il 7 luglio di quest'anno. Le regioni e le province autonome hanno 7 mesi di tempo per recepire tutto il decreto ministeriale, ma in realtà la Regione Veneto ha già fatto una delibera nell'aprile di quest'anno, la 368 se a qualcuno interessa insomma il numero, ma questa delibera importante che di fatto utilizzando le risorse, i soldi, chiamiamoli con il loro nome, i soldi del piano, del PNR, del Piano Nazionale di Resistenza e Resilienza, in particolare quel tesoro... Di ripresa e resilienza. Di ripresa, sì. La resistenza comunque c'è sempre, perché bisogna resistere nell'attuarlo. E uno si sbaglia. Dicevo, quel tesoro, quel tesoretto insomma, che è relativo alla missione 6, che è quella che si occupa della salute, quindi prendendo quelle risorse dedicate al Veneto, perché dentro lì a quella missione ci sono 15 miliardi, ma non vanno tutti al Veneto naturalmente, no? Quindi prendendo quella parte dedicata al Veneto, la Regione Veneto ha già fatto una delibera che impegna, ha individuato chi sono gli, chi devono essere i soggetti gestori, attuatori e ha per ogni servizio che troviamo dentro il decreto ministeriale 77, ha stabilito l'impegno di spesa, dove devono essere fatti, rispettando ciò che dice il decreto ministeriale 77. A sua volta, da quella delibera della Regione Veneto, le ulse, ogni ulse, per la propria parte, hanno fatto le derivere attuative rispetto all'individuazione intanto delle strutture, perché questo lo dobbiamo dire. C'è l'impegno di spesa, c'è come spenderli, dove spenderli, ma intanto le delibere riguardano le case, i muri, i posti, dove, dove. Poi c'è tutto il problema legato al personale, ma quello magari lo vediamo un'altra volta. Quindi i muri vuol dire che dovranno essere utilizzati in parte strutture già esistenti e in parte costruite ex novo. Costruite ex novo. Infatti ogni ulse ha fatto, le ulse hanno sempre su indicazione della Regione, hanno fatto una ricognizione sul loro territorio per vedere quali potevano essere le strutture da riutilizzare. In linea di massima gli ex ospedali sono luoghi che vanno molto bene, Vanno rinnovati alcuni. Vanno rinnovati, ma siccome qui stiamo parlando di servizi che non sono residenti, in questo caso oggi, adesso parliamo delle centrali operative, territoriali, che sono servizi, che sono H24, però non hanno la residenzialità dei pazienti. Non hanno pazienti. Questi sono servizi che passano informazioni, diciamo. Quindi queste strutture, soprattutto gli ex ospedali, ma anche ex ambulatori, vanno molto bene. Quindi le ulse in parte hanno identificato dei luoghi da ristrutturare, da riadattare, in parte vanno fatti ex novo e ci sono impegni di spesa, perché è già stabilito dove la Regione Veneto ha già indicato dove devono essere fatte. Quindi diciamo che l'impianto normativo adesso esiste. Esistere bisognerà trovare le persone in più, perché alcune le abbiamo visto una scusa puntata, ce ne sono. E quello è però sempre un punto dolente. Ristrutturare, dove è possibile, le strutture che verranno prese in considerazione per le case di comunità e anche per queste strutture più amministrative, informative? Sì, hanno un grande ruolo di coordinamento, poi lo vedremo. Però sono più... Sono servizi. Servizi. Sono servizi. Esatto. Allora, qua, ritorniamo a questo distretto. Questa la riproponiamo sempre, perché è la slide che mostra quali sono i servizi e le strutture all'interno del distretto previste dal decreto ministeriale 77. Quella in giallo, sottolineata in giallo, è quello di cui stiamo parlando adesso. Di cui stiamo parlando in questo momento, che è la centrale operativa, noi la chiamiamo COT, ma è la centrale operativa territoriale. Non c'è una persona che andrà al centrale operativa, infatti questo ci interessa relativamente. Perché altrimenti uno dice, ah, devo andare là. No, 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 no. Ma sarà disponibile H24 per qualsiasi informazione che a noi serve. Vediamo la slide successiva, eccola qua. Allora. Funzionante 7 giorni su 7, funzione di coordinamento della presa in carico della persona, raccordo tra servizi e professionisti. Deve assicurare questa famosa continuità di servizio, accessibilità, integrazione dell'assistenza sanitaria e la famosa socio-sanitaria. Sì. Era l'altro aspetto. Allora, diciamo che questa tipologia di servizi era già stata individuata dalla programmazione sanitaria della Regione del Veneto circa due piani socio-sanitari fa. Sapete che il piano socio-sanitario regionale è la programmazione che la Regione si dà rispetto ai... Ci si era reso conto, l'abbiamo ormai, siamo stufi di ripeterlo, però è bene che lo diciamo, ci si era resi conto che non esisteva un collega, l'abbiamo sempre noi poi delle organizzazioni sindacali, in particolare per i pensionati, per le persone insomma che rappresentiamo noi dello SPI, della grande cesura, della grande criticità che esisteva tra l'ospedale e il territorio. Le famose dimissioni vengono dimesse, soprattutto gli anziani, magari dopo un intervento, magari non ancora guariti, perché è difficile che si guarisca in ospedale, insomma, no? Ci vuole anche la riabilitazione. Vengono mandati a casa se le famiglie si sentono sperdute e sole, soprattutto se questo avviene il venerdì, che è la giornata nella quale i servizi territoriali del distretto, i no attuali, insomma, al venerdì pomeriggio chiudono e quindi insomma ci si trova il sabato e la domenica. La centrale operativa territoriale, nata, ripeto, già due piani fa, aveva proprio lo scopo di mettere in collegamento l'ospedale, al momento della dimissione soprattutto, l'ospedale con il territorio. Però era un servizio in particolare informatico, il cittadino non aveva accesso a questo servizio, era un passaggio di informazioni tra l'ospedale e il territorio, presa in carico laddove ci si accorgeva che la situazione era non così tranquilla, però insomma non ben strutturata fino in fondo, anche se esisteva, per esempio qui nel nostro territorio, dato che siamo a Padova, ne esistevano tre, una per ogni ex ULS, che poi è diventata una sola quando siamo diventati ULSI 6, oggi invece qui ne avremo, per esempio per la 6, ben 9. perché il decreto ministeriale 77 dice che dovremmo avere una centrale operativa ogni 100.000 abitanti. Infatti andiamo a vedere la slide successiva, eccola qua, una ogni 100.000 abitanti, una valenza distrettuale, se il distretto ha un vaccino di utenza maggiore, un coordinatore infermieristico, 3-5 infermieri, 1-2 unità di personale di supporto. Ma perché 3-5 infermieri, personali di supporto, se ha un ruolo soltanto informativo? Perché comunque è cambiata completamente rispetto a quello che vi ho raccontato fino adesso, perché il decreto ministeriale 77 dà un sacco di funzioni a questo servizio, e quindi, perché potrebbe stare dentro la casa di comunità, ma soprattutto farà dal raccordo non solo tra le strutture, in particolare strutture ospedaliere, strutture territoriali, ma anche potranno rivolgersi, in questo caso sì, alla centrale operativa territoriale, anche i singoli cittadini. Quindi loro risponderanno a qualsiasi domanda e a qualsiasi richiesta, non solo. Ma siccome ormai dovrebbe essere tutto informatizzato, loro avranno la possibilità di poter verificare tutto quello che esiste in rete, nelle nostre ULSI in particolare, nell'ULSI 6, adesso noi qua, ma in generale, e potranno identificare immediatamente il percorso e la situazione di quella persona, di quel cittadino che ha bisogno di aiuto, e potranno mettersi in contatto con tutti i servizi della rete e dei servizi. Secondo me non bastano neanche, per come la vedo io, 3-5 infermieri sono troppo pochi, perché non si occupano personalmente, non vanno presso il domicilio loro, ma devono mettere in rete e attivare tutti i servizi per dare la risposta. Si occuperanno, lo dico velocemente, per esempio delle ammissioni e dismissioni, per esempio dall'ospedale verso le strutture intermedie, oppure metteranno in contatto anche con le RSA, tante volte che quando le famiglie, dicevo, presso le strutture intermedie, sapete che sono di tre tipologie, l'ospedale di comunità, quelle riabilitative, gli hospice, quindi loro devono proprio avere la visione totale della situazione in tutte queste strutture. Quindi se non funziona questo non funziona più niente? Diciamo, no, non è proprio così, perché io se vado in una casa e non funziona più niente, no, non è così, perché comunque nel distretto... Cioè diventa una struttura obbligata, di passaggio obbligato? No, non è un passaggio obbligato, perché per esempio, in un'altra trasmissione abbiamo incrociato la casa di comunità, dentro là abbiamo anche i punti unici, per cui un cittadino può andare... Cioè c'è una miriade di informazioni, no, che però la cosa fondamentale, ed è importante ricordarlo, il decreto ministeriale metti in rete tutti. Adesso, perché siamo, non a caso, insomma, utilizziamo anche fondi per la digitalizzazione, no, perché adesso abbiamo i computer, certo, se i computer si fermano, siamo finiti, perché abbiamo già visto, insomma, no, quando l'Ulse 6 ha avuto quel problema, ma i cittadini di Padova, insomma, tutto, ritornare alla pena. Però c'è un'interconnessione fra tutti questi servizi, che in parte esistono già, ma se ognuno fa il suo, il cittadino invece ha bisogno di informazioni, ha bisogno in tempo reale e ha bisogno della risposta a quel momento lì. Interviene anche sulla dimissione domiciliare, quindi, come dire, dà l'input anche per tutta l'assistenza domiciliare, non si passa solo da qua, ma, insomma, è importante che ci sia tutto questo collegamento. Dialoga anche con la rete emergenza urgenza e dà un supporto informatico e logistico, attenzione, anche questo è importante, perché oggi non avviene, a tutti i professionisti della rete assistenziale e di chi parliamo? Medici di medicina generale, pediatri di libera scelta, medici, infermiere di comunità e di famiglia c'è, oltre al fatto che tutti questi professionisti che io ho nominato hanno la facoltà, che oggi non c'è, di chiedere l'intervento della centrale operativa. Per coordinare. Per coordinare, per avere informazioni, per chiedere, no, ecco, oggi questo non c'è. Sono le famiglie, guardate, banalmente, faccio un esempio, banalmente, io ho visto, mi è capitato tante volte, di avere delle persone non autosufficienti a casa seguite dalla famiglia e dalla badante, dall'assistente familiare. E va bene, a un certo punto si arriva a una situazione nella quale non è più sostenibile, è la famiglia, sono i figli, o addirittura i nipoti, insomma, chi per essi, chi ha la delega in quel momento, che deve fare tutti i percorsi, addirittura andare a contattare, per esempio, le varie RSA. Se dovesse, no, è così che funziona. Certo c'è tutta la valutazione multidisciplinare, ma insomma, questo servizio invece potrebbe aiutare, anzi aiuterà di sicuro, a individuare quali possono essere i posti liberi, dove si può andare, quale può essere, ecco. Quindi, io ritengo che sia poco conosciuto, già lavora, perché noi non dobbiamo pensare che non c'è niente nel nostro territorio. Questo servizio già c'è da molti, da svariati anni. Dov'è? 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 Sta nelle segrete, sta, no, insomma, è all'interno dell'ULSE, ovviamente, no. Però, ripeto, oggi, per come è fatto, per come è stato normato, non è di accesso del pubblico cittadino. Ah, ecco, quindi cittadino. C'è una differenza, cittadino non telefona, non esiste che telefoni oggi alla centrale operativa. Infatti, si deve arrangare. Dialogano fra, e già tanto, ci sembrava già un bel passo che ci fosse un bel dialogo fra l'ospedale e le strutture intermedie, no, le strutture, era già un bel passo. Adesso, invece, qua, insomma, qui diventa un servizio davvero che coordina tutti gli interventi. E soprattutto fa fare gli interventi giusti, perché tante volte uno, no, magari gira a ruoto. Ecco, quindi, insomma, davvero, è davvero. È anche questo un servizio a valenza distrettuale, quindi il distretto diventa proprio, cioè, sposta un po' l'attenzione, no. Noi pensiamo sia, ci abituati alla pandemia, a pensare meno all'ospedale, no, quando gli ospedali erano diventati inaccessibili. Ma se io ho bisogno di salute, bisognerà che trovo una risposta. Dove vado? Cosa faccio? L'ospedale, no? Appunto, vanno in pro... perché dove vai? Là vai. In realtà, tutto questo impianto dovrebbe davvero, io ho molta fiducia, no, dovrebbe... Sposterà l'attenzione, sposterà e risponderà ai bisogni del cittadino là dove il cittadino vive. Perché gli ospedali, vedete, no, sono sempre più inaccessibili. L'altra cosa fondamentale, che è prevista sempre dal decreto, è che questa centrale operativa territoriale dialogherà con la centrale operativa regionale, quel famoso numero che vedevamo nella prima slide, 116, 117. Tutto questo, certamente, avviene, vedete, dialogherà, quindi andrà... potrebbe anche essere... anche perché è facile che possa avere anche, come dire, delle informazioni anche al di fuori della propria provincia, no? Però questo è possibile perché abbiamo la digitalizzazione, perché ci sono fatti dei grandi passi avanti e questo lo ribadiscono, perché le informazioni devono essere le stesse. Il linguaggio informatico deve essere lo stesso. Siamo partiti che ogni ulse aveva il suo e non dialogava, qua invece, insomma. Quindi io continuo a dire, questo decreto è davvero fondamentale per l'assistenza territoriale. e da... perché vedete che ogni tassellino che tocchiamo dà delle risposte al cittadino. Al cittadino, non al malato, non al malato grave, per cui rimane il 118, rimane l'ospedale, tutti i servizi di urgenza non vengono... Questa è un'aggiunta. Perfetto. Vediamo ulteriormente a specificare che saranno 49 questi centri sostanzialmente nel Veneto. Sì, sono 49. Anche qua le abbiamo... Andiamo andando più avanti, ancora così vediamo la rivista. Sì, le vediamo, perché abbiamo detto uno in 100.000 abitanti. Noi le abbiamo suddivise per ulse in base appunto agli operatori, al numero, scusate, in base al numero degli abitanti. Chiaro. E quindi ecco qua i numeri, insomma, no? Vedete? Quindi qui possiamo vedere l'uslo 1 Dolomiti, però sostanzialmente essendo organizzativi, eccetera, prescinde un po' da dove possono... Da dove sono collocati. Qua noi non abbiamo, qui non era... Qui, mentre in altre... Infatti, andiamo avanti con la slide, vediamo quell'altra Uganea, Pedemontana, Berica, Scaligela. Cioè non è che ci interessi se Cercere o San Bonifaccio o Bassana. Non ci interessa perché? Perché semplicemente sono luoghi di smistamento, di smistamento, di informazioni per cui... Che però hanno davvero un valore importante, fondamentale. L'importante è che ci siano tutte. Che vengano attivate, anche qua, beh, l'ho già detto all'inizio, cioè io confido, c'è la delibera regionale, c'è il recepimento di quella delibera regionale da parte di tutte le ULS, addirittura con l'impegno di spesa, perché anche in questo caso, magari per le attrezzature, no? Ecco. E per le assunzioni. E per le assunzioni. Noi stiamo continuando a parlare delle strutture che vanno benissimo. No, no, ci devono anche essere. Il problema è che le strutture camminano sulle gambe degli uomini. E qui, qui, il PNRR, appunto quella famosa programmazione, quei soldi, quel tesoretto che abbiamo da parte, non finanzia purtroppo il personale. Finanzia già, che è già tanto, tutto quello che stiamo dicendo, ma non finanzia il personale. La Regione Veneto, adesso vedremo, insomma, probabilmente metterà, dovrà, dovrà, la Regione Veneto, ma insomma in tutta Italia, ma comunque la Regione Veneto dovrà mettere dei finanziamenti ad hoc proprio per la realizzazione, per questo personale, che deve far camminare queste strutture. Quindi ci dovrebbe essere anche però delle persone che possono, che vogliono farlo. perché intanto ci mancano medici e infermieri. Mancano medici e infermieri. È una storia antica. Devo dire che noi abbiamo monitorato molto, per i medici, anche qua la Regione Veneto ha già assunto 101 medici di medicina generale in tutto il Veneto, abbattendo un po', no, quelle carenze che avevamo, eravamo a 701, quindi insomma, a 704, ora non ricordo, quindi in parte abbattuto. Per i medici di medicina generale confidiamo molto nell'aumento delle borse di studio, sapete che ogni anno la Regione Veneto... è in modo che, certo, allora, il primo risultato importante dell'aumento importante delle borse di studio lo vedremo nel 2024. Questo personale, questi professionisti, c'è bisogno di tempo per formarli? C'è bisogno di tempo, di buona volontà e devono naturalmente dedicarsi. Questo è anche un appello per svolgere questa professione. Il tempo è volato, grazie mille, è stata bravissima, perché la cosa è abbastanza complessa, ma forse di parlarne riusciremo tutti ad entrare in questi meccanismi e a comprendere che saranno di vitale importanza per poterne fruire con tranquillità. Grazie, restate con noi, cari telespettatori, le nostre interviste continuano. Grazie.